piccola parentesi vorrei mettere in chiaro che gli episodi di Soma dureranno almeno 25 minuti lungo perché è un gioco davvero molto lungo che se lo portassimo ogni 15 minuti finiamo l'anno prossimo prima cosa la seconda cosa per fare un gameplay serio su Soma non si può non ascoltare per esempio i messaggi che abbiamo ascoltato l'ultima volta sono necessari per capire la storia ok ok mi cazzo sono tutte subacquee bel posto inutile è infatti c'è un po di sangue solo un po e quella metà e qua c'è qualcosa ok ma cazzo si è finita cos'è sta cosa no stand clear qua c'è una grata rotta non mi piace tira l'andosso non lo voglio porci sovrumati tira l'andosso dentro prova a vedere si vieni a tirarlo dentro no si si ho qualcosa di più pesante da tirare non c'è basta vieni a tirarlo dentro si ho sempre quel senso consiglio prima per saltare ma che bei posti aspetta lì c'è una leva c'è una leva ho visto anch'io questa cosa ah ho sbloccato la porta anche se la finestra era comoda ma che cazzo di posto è ho un coso è la mia ombra devi capire che l'infarto è una cosa che che schifo è oh mio dio e ci passa attraverso il mondo passa attraverso il compito è corroso il compito perchè il coso che non ha un compito aia e dov'è il libro? eeeh sono i bagni? ok nessuno stupo ho un coso e non ho paura di usarlo ho messo un modello d'aereo perchè sennò tentano 3 si fatto bene ma perchè sennò tentano di nuovo? per farmi del male qui i pezzi di vento perfetto io lo lascio stai dietro eh ok la tua legge si ma ci hai detto quello cos'è? c'è una cosa brutta scusa cosa non mi faccio la dita stai bene da qui 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 quasi tutti chi sono? chi sono questi tutti? tutti perchè sennò veramente io sono tutti io sono una io sono tutti sai che sono? dove sono? io sono quest'altra ragazza ci vediamo tanto profilo come ho fatto a farlo? è un altoparlante hai cliccato no ci hai messo le dita in mezzo prendi la scossa e questa scossa qua ti droga e ti fa parlare strano altra lì va strano scusa accessorazione lei va che apre la porta il Mario si andiamo in del macchino ti stai portando dietro guardate te sei portato dietro mentre ti portano dietro cos'è? un belluomo cos'è oh no 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 we don't no 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 Stiamo calmi però! Cosa ho? Aspetta, non vedo una più. Ok, ora faccio così, va bene. Sembrano... Ma queste cose qua ci sono? La societiva mi stupra. Si. Perché c'ho una palla da tennis in bocca? Non c'ho una palla da tennis. No! 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 Ok! E tu? Puoi parlare? Puoi parlare come gli altri? Ma ci sta parlando? A saperlo. Non posso raccogliere qua. Oddio! Cos'ha quelle cose? No, non sto capendo niente, ragazzi. Cos'è un gel strutturale? Non sta parlando. Ehm... Voi, ti sento. Ok? Ok? Sì, sei creepy as hell. Sò, v' ho sentito. l'idea spenna spennava per l'aspetto la spende quindi si è interrompendo la registrazione perchè youtube sembra che ci sorghi un rumore stranissimo da come ho capito sembra che interagente con interagente con l'ambiente e una volta interagito con l'ambiente succede qualcosa parli con delle cose strane perchè devi sporgerti per l'ambiente ma con tutto la città di un po' no no è l'unica ma che abbiamo credo è sparito costo costo è lì non è lo stesso la cosa sembra la cancellina guarda la pagna ma cosa sono queste cose qua queste bruno no no ehi no cosa fa me no 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 ah non riesce a chiudere ma mia sono disorientata siamo in tre si c'è una strada oh no 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 aspettino premi i pipra cosa io so perchè quando per fare meno rumore per te movi per ridurre le possibilità che ti scoprono Cosa cosa hanno fatto perché hai rumore cosa c'è ancora l'anima strana ma io non la toccherei l'anima strana non toccare l'anima strana che c'è lo schermo che fa strane cose ma da come ho capito questo gioco è un horror che gioca sulla psicologia delle persone non la tocco l'anima strana ciao 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 e non correre che fai rumore no no corri corri no prende la scossa no prende la scossa perchè prendi la scossa ah ma che si prende la scossa è fin troppo realistico c'è davvero un po' meno maniato no non pensavo dove si prende la scossa beh ci sono dei capi scoperdi se vai lì c'è iolo 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 io 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 è brian no non è aperto stai qui mal che vada ci uccide ma che vada ci uccide eh ottima prospettiva di vita, basta che non apri la porta, basta che non apri la porta e non andremo mai avanti, ma io poter posso starmene qua tutto il giorno, e allora andiamo a casa, perché non puoi aprirla da qua, e se come c'è una forza invisibile, sai tipo dei tifosi, e se certo devo vicino al consiglio prima di Gesù, e allora che c'è che faceva il rumore, Gesù sei tu? Ma che schifo è, io non ci passo un paio, ma cos'è sta roba? Cos'è? Perché? Dov'è? Perché sono entrato qua dentro? Boh, ho una sedia, ho un testo è un testo per quello, oh no, hai mazzo, hai mazzo, hai mazzo, hai mazzo, hai mazzo? Per consultare l'invento, ma sono in funzione? Si abbiamo capito che serve per interagire con apparecchiature informatiche, si lo metti in una cosa in funzione, tu sarai ideogrammi, ideogrammi, tanto ideogrammi, è la nostra nuova cosa, e basta portarti in giro le robe, prenditi questo che è bello grosso, eh ma ci dico di anni, eh ma metti un po' di sì, eh? Sforzi sovrumani, chi è questo rosso? Cos'è? Un cavo? Cosa sta succedendo là sopra? No, questi qua sono dei cavo, perché ci sono rumori satanici? Senti? La senti? La porta, una porta, una porta, una porta, una porta Ho un gondotto nella seme, e questo? Accesso alle gare? Bello, ho una cosa che è rotta, fantastico Sii, è rotta, ma non è così, devo farci una cosa, una cosa Vola a tutti! Tieni, te la potresti tirarla in testa a qualcuno Cosa è la consape di assistenza? Quella cosa lì, l'unica roba illuminata della vita evidentemente serve se c'è un cazzo di un coso di lui star a cibo si è un incrodo se non lo vedete leggi leggi aprile stazione di pilota già attivata accesso legato Questa è stata un'altra installazione di questo processo, non è negato? Siamo in interazione di passaggio, ho un'installazione... Cosa c'è la U? Wow! A.4 in... 13 giorni rimanenti What? Oh Dio... Y13492 Sub Simon Janet Senti la scala Se tu stai l'interno Autore David Manchin Senti la scala Senti la scala Ma sei tu! La gestione Non inserito Non inserito Applica 7 Si ha aperto una cosa bella Questa roba qui E' una scheda E' una batteria Ma cos'è? Penso sia quella per sbloccare la porta dove si è negato l'accesso prima Si fu mi fa Ora intanto Va Ma sono state rile Non si è 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 rile Dove stai leggendo? La so Si Oh Puoi usarlo per aprire le porte praticamente tutte Se non ci riesce qualcosa va oppure quando ti vuole venire dentro E allora cosa fai? Ti spari? Ficchi quelli in monte Ficchi Non si può sentire Non si può sentire Non si può sentire Si Mi piace Dovresti essere un ingegnere Accidenti Ma io non sono un ingegnere Io sono Simone Per altro Abbi un corrente di quasi a me Se non fanno l'altro Io sono Simone Io sono Simone Ha detto la sicurezza di Podcast 2 2 Ho fatto su una nuova Che bello Se c'è qualche problema che non stai risolvata da solo Vieni a trovarli Il Mocca al lupo Abbiamo capito più Certamente Ok Ma il giorno è certo Ma no Faccio avanti 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 Oh Eh ma scusa ma c'erano tante altre opzioni Il nome l'ho muto Ma no Faccio avanti Togli quel omito e vai a fare un giro dai Oh guarda Lo rimettiamo E facciamo avanti No Quanto è il muci Vediamo Cip su mental Non so Cip corticale Che roba è Cip costumente Eh sarà un altro silenzio Oh aspetta Adesso forse puoi andare Di là Uh La Oh si c'è C'è qualcosa Potenza In corso Eh no Si abbiamo Odice a cip Offline Pilotto Ok Stato benissimo Non c'è un passo Non c'è un passo E' un mistero E' E' Allora E' Vai a destra Di qua c'erano le cose C'era la porta chiusa Ok non c'è più la porta Hai ragione Bisogna preoccuparsi Si Decisamente Anche questa era chiusa E' anche questa Perché non ci sono più le porte Anche questa E' lì C'era la Maffanculo Io vado di qua Eh direi Forse adesso va Uuuu Si Scorrere è un magico Tu non puoi vedere me Tu Eh no No lasciamo aperto Tanto passa Gesù Ma gira però Simo c'era una brutta persona dietro No 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 E perchè siamo sotta Che figata Che figata Oh Ups Pare una metropole in marina Che brutto lo fai C'è uno squalo come un bambino sventrato Beh nulla è accaduto Tutto è come prima Stesso silenzio Ma lo squalo tipo Ma sono pesci Ma sono pesci Perfetto Inquattante Molto Questa non si capisce Non so per favore Ma Ci potete dire qualcosa riguardo ai pesci Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo A quello di Prima Chiazza i pesci Mostro di nuovo Wow 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 Chiazza i pesci Wow Freaky pesci Tieni la sedia Mettiamoci di rossi Lì Vorrei mettere Infilare le dita da aprire La corrente Un cote Che Un cote Un cote ma non ci sono più si li ho visti si ma c'è una città piena di macchina psicotica con un vaso un psicotico mi sembrano siamo arrivati da lì no 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 è giusto non siamo arrivati dall'altra parte non ci sono 10 si è vero bello avventriamoci allora ah no ok di qua ah di qua è tutto quello che è osservation tower ah è il rumore del gioco osservation tower che è ovviamente e c'è sempre quella roba lì era piccola c'è una porta che dovrebbe essere chiusa ma è aperta e qui c'è un coso brutto oh di oh di non infilare le dita nella corrente che cos'è quella roba lì una cosa brutta no 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 non tocca niente ioè stia calma ma chi sta parlando cos'è quella roba lì quella odio io non la tomo non la tomo non la tomo cosa no e le freccette no no tu stai guidandolo no wow wow non fatti male si è cos'era la porta strana si è aperto un portello ma manco riprendi una trascossa piuttosto si è dove non può fatto chiusa da quando quando prendi la scossa la corrente smette di andare o se come metti che dico no 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 cosi stulanti incommenti tranquilli si computer pieno di merda in un condotto sicuramente uno mette degli interrupturis una cosa strano io sto dicendo c'è lo soggetto andando 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 canton non era quello di prima bene riusciamo dal condotto torna indietro torna indietro torna indietro pare che sia una cosa che giri intorno costo che andare alla sinistrazione che si ha trovato delle varie strade ma no, tanto di inverno fosse seguiamo la luce, moriamo sai che negli horror non è capito devi seguire quello che non vuoi seguire ma come horror mi sembra anche tranquillo un fatto psicologico dove è passato? è chiuso qua, da dove è passato? ma la domanda non è da dove, chi è passato o cosa ci sono diversi robot pesci pesci strani e noi dove stiamo andando? almeno qua sembra questi qua cosa sono? carica bene sembra uniformi cremato quindi non so perché station control stazione control ma era normale che uno viaggiava nei condotti si wow c'è ancora quella cosa nera wow nel senso wow la marca c'è un computer che va da sola non so perché non so che la sigla portiamo la sigla armare ehi no 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 è perfetto adesso perché c'è una massa il suo lavoro è brutto sto facendo un ruolo hey ti senti ti senti che diavolo si dovresti prima che saldi addosso no non farlo cos'ha? ma parlai tu? adesso ti metti a parlare? tira via quella sigla se no vai via signora staccali anche gli altri due o tre che ci ha attaccato no ha detto di non fallo tu fallo tu fallo un robot fallo fallo non è vero mai ma non poi c'è dato uno è morto un robot che dice di essere felice? con la voce da donna? ho attivato qualcosa beh pulsate cos'è? ah ok con le verde si si aspetta i migliori anni ah giri per chi non per giri al giri al minuto giri al minuto non al minuto si ma al minuto ho lai ho lai apertura il corso di cosa? apertura il corso di cosa? sta succedendo qualcosa è lì lì cosa ha preso fuoco? fumoroso da quando è il fumoroso? ho la sensazione che c'è la porta aperta c'è un segnale di attenzione di qua che prima non c'era aspetta quella specie di schermo lì questa roba qua non c'era prima terminal no aspetta dietro c'è uno schermo strano quello quello oh ma cosa succede? c'è qualcuno c'è qualcuno il corso fu sparita era come un come un segno davvero ehi è pronto vederti i ripetitori non c'è una ultima come ti facciamo? un posto con i generatori un qualcosa che si attiva da solo parco 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 va bene e andiamo dove è la strada? quella che si è sbocchiata si è aperta per esempio perché parco 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 posso suicidarla ha qualche utilità? non penso proprio di quello sa che dice che va tutto bene eh, non va tutto bene coriamo, coriamo, coriamo ta-da, ta-da ta-da caricami steam steam è quello di giochi perchè non posso già perchè è meglio se lo puoi usare no, non dipende è un salto della fede no, non saltare usa la scala usa la scala usa la scala non usare la scala e poi usare la scala ma magari cadi, spezza il collo, muori e poi prima cosa perchè c'è sento qualcosa che cambia o lo sento solo no, 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 scusa, scusa gira, gira, gira quello lì chi è? è il bicchiere aspetta, sperca l'acqua è il bicchiere in vetro buon uuuuh uuuuh uuuuuuuh uuuuuh uuuuh dai proseguiamo Vabbè! Vabbè!